Siamo nella villa di Venere a Pompei e c'è lei che è la Venere nella conchiglia. È bellissima, ha lo stabismo di Venere, se vedete, ha la sinuosità della danza araba con il piede alzato. Bellissimi due amorini, la maraviglia, lo stupore e l'assenza. È lei che ha gli amuleti, il ventaglio, la conchiglia, ispirerà tutti i grandi artisti, da Botticelli alla Penicigna ed è bellissima, vi consiglio di venire a vederla.